Nessuno vuole stare con lui in cella, troppa la paura nei confronti di Alejandro Augusto Stefan Meran, ritenuto capace di compiere gesti incontrollabili in qualsiasi momento. E' iniziata così la vita in carcere dell'assassino di Pierluigi Rotte Matteo de Menego, trovato così subito di fronte all'astio e alla diffidenza della totalità dei detenuti al coroneo. Il giorno in cui Alejandro Meran è stato portato in prigione, il primo step è stato quello di metterlo in sala in fermeria comune insieme agli altri carcerati. Proprio loro avrebbero deciso in massa di non voler condividere gli spazi con lui. Secondo le nostre fonti, il risalto mediatico di ciò che è successo venerdì scorso, unito all'efferatezza con cui l'assassino dei poliziotti ha sparato e ucciso, avrebbe turbato moltissimo i detenuti del carcere. Tanto che è stato necessario trasferire Alejandro Meran in una cella singola per la propria sicurezza e forse anche per quella di tutti gli altri. Ma non è stato attivato nessun regime di isolamento. A dimostrare il sentimento comune di terrore verso la figura del killer, di totale rifiuto per il gesto compiuto, a portare fiori e messaggi presso la questura per Pierluigi e Matteo sono stati anche numerosi pregiudicati che hanno familiarità con tribunali e carceri, non certo per meriti. Un sentimento, quello rivolto ai poliziotti, che ha perciò coinvolto davvero tutti, unendo la popolazione nella tragedia senza distinzioni. Oltre al senso di colpa, se mai dovesse provarlo, Alejandro Augusto Stefan Meran dovrà fare i conti anche con questo.